Anzitutto grazie mille a voi tutti per essere qua, sono molto molto felice, grazie ad Angelica che ha organizzato questo momento fra le altre 200 cose che le chiediamo di fare e grazie a Francesco per essersi prestato a essere qua. Grazie mille Alessandro, grazie anche io ad Angelica, a Will in generale, grazie a voi per essere qui. Allora mi piaceva, dato che questa è la prima che facciamo, il primo book club pubblico che facciamo, in realtà proviamo a fare book club interni di varia natura per un motivo, l'apertura così è per continuare a fare quello che noi facciamo quotidianamente che è uno scambio con la community, con le persone per non essere chiusi fra di noi che non ci interessa. Il book club interno di Will in realtà aveva una funzione, cioè quella di leggere libri non della tua materia, così che ti impressioni più facilmente e dici no raga ho scoperto questa roba qua e poi lo condividiamo, diventa magari un contenuto che può essere utile per tutti quanti. Però in generale è un modo per continuare un dialogo, è un dibattito che facciamo quotidianamente. Tu, come dire, sei stato il primo per acclamazione ovviamente, come volontà da parte del team, come potenziale nostro primo ospite e di nuovo grazie per essere qua. Adesso c'è la Silvia con la quale discuterai del libro. Mi piaceva però partire un attimo da quello che tu fai e soprattutto da come ti definisci, perché adesso fai un sacco di cose, giornalista, scrittore, anche un po' influencer nella mia mente. Tu come ti percepisci e come ti definisci? Allora, intanto auguri a Luna, diciamo, visto che è rimasto in sospeso. Ecco, infatti, no, allora, mi definisco giornalista anche per semplicità e poi perché sono legato all'idea che l'attività del giornalismo, diciamo, prescinda dall'avere o non tesserino, dal fatto che fai delle cose che canonicamente fanno i giornalisti. Cioè l'attività del giornalista è indagare dei pezzi di realtà e provare poi se capisci qualcosa, se scopri delle informazioni e raccontarle a un pubblico. E quella cosa lì si fa in tantissimi modi diversi e quindi poi per quanto poi i linguaggi possono cambiare, i prodotti possono cambiare, rimane secondo me molto chiaro che quella è almeno per me, diciamo, l'intenzione. Poi i risultati naturalmente possono essere diversi. Influencer dovrei prendere dei soldi ed essere molto più ricco di così, diciamo, ma purtroppo no. Dici quasi tipo fai swipe up. Adesso non c'è manco più lo swipe up. No, però appunto c'è una questione di equivoco a volte. Sai, questo è vero rispetto al fatto che siccome io utilizzo poi in realtà oggi anche meno di prima, ma i social media, in parte per raccontare le cose che faccio, e abbia un pubblico sui social media numeroso, questo mi renda in qualche modo un influencer. Non lo considero un insulto ovviamente, però nel rapporto col pubblico effettivamente delle somiglianze ci sono. Nel rapporto col pubblico nel bene e nel male, cioè in quello che vuol dire leggerti ogni giorno i messaggi di chi ti scrive delle cose sui social. Assolutamente, è quel dialogo di cui si parlava all'inizio. Io non credo che ci sia assolutamente nulla di male, anzi, e credo che la risposta di un serate come questa e tutte le presentazioni che hai fatto in giro per il mondo, l'Italia, principalmente. No, l'Italia, l'Italia, sì. Del tuo libro, che sono sempre iper frequentate, gente in coda, eccetera, siano la dimostrazione di un dialogo reale, effettivo che ci sia, e anche della capacità che hai di chiudere un gap a volte percepito rispetto all'informazione, eccetera, che è quello che prova a fare anche Will e che tu fai molto bene. Secondo te, domanda naturalmente del cavolo che mi autoetichetto, però qual è il tuo, la tua secret sauce, l'ingrediente segreto, per riuscire a fare questa cosa in un modo che non sia pedante, e tra l'altro tu spesso un po' te la prendi con il media tradizionale, o quantomeno, come dire, ne fai una lettura critica che personalmente, come dire, adoro, mi ci ritrovo. Guarda, non so se ci sia una secret sauce, anche perché poi Nino trova la sua, e non è detto nemmeno che Morning, per esempio, o il post, siano l'unico modo di fare le cose, ovviamente. Però, torno al tema di cui tu parlavi già dall'inizio di questa chiacchierata, cioè il dialogo. Ci sono due elementi che aiutano a costruire un rapporto di fiducia con le persone che seguono il tuo lavoro, se lo considerano utile, senza i quali si finisce per diventare o, diciamo, i soloni, che poi la gente finisce per detestare, o per fare delle cose irrilevanti. E una è questo tipo di dialogo costante, per cui io leggo tutte le email, leggo tutti i commenti, ed è un lavoro che mi prende un sacco di tempo, che potrei dedicare a produrre dei contenuti o a fare altro, però quella cosa mi serve. La tua skin care routine. La mia skin care routine, sì, per dormire, giocare ai videogiochi, per lavorare ad altre cose. Però mi serve perché io faccio una roba veramente presuntuosa da quando decido di parlare ogni mattina per 25 minuti di tutte le notizie. Cioè, ma che cazzo sei, scusate, no? Cioè, non so che sono le... Quindi o mi metto nella posizione per cui so che di qualsiasi tema io parli, mi ascoltano delle persone che ne sanno più di me, e che è statisticamente certo che io dica delle stupidaggini parlando per mezz'ora ogni mattina, e quindi in questa roba mi correggo, cerco di restituire, poi le persone quello che loro mi mandano. E la seconda cosa sta nel provare a mettersi nei panni di chi ti ascolta, che questo passa sia dal provare ad anticipare le loro domande, se stai spiegando una roba sull'inflazione, sia a metterti nei panni di chi ti ascolta anche rispetto al rapporto con i media, quindi non suonare corporativo. Io non mi diverto a fare la polizia dei giornali, non mi piace per niente, cerco di farlo il meno possibile. Però quando c'è un problema che riguarda la nostra categoria, non faccio quello che dice, eh però, gente che lavora va rispettata. Il rispetto c'è per tutti, però si possono discutere le pratiche. Questa cosa nel giornalismo, che è un mestiere un po' settario, un po' corporativo, è una cosa che le persone vedono in Morning, per esempio, e non vedono in tante altre cose, diciamo, più mainstream della stampa tradizionale. Secondo me poi c'è l'ultimo aspetto, e così poi iniziamo a parlare del libro, è il riconoscimento dell'autenticità, no? Sia nell'approccio a quello che racconti, e poi della tua passione rispetto a quello di cui parli. Cioè, comunque, oggi magari hai una notorietà, un successo anche, appunto, editoriale, eccetera, che fino a qualche anno fa era un po' meno, però comunque tu facevi la tua newsletter, i podcast, eccetera, sempre sui quei temi, sempre sugli Stati Uniti. E quindi, come dire, c'è anche un rispetto del dire, non è da ieri mattina, perché adesso è cool raccontare cose intelligenti su Instagram, ma appunto c'è stato un lungo lavoro, e forse quella roba lì viene fuori, che poi è sapere scrivere di libri, che ci raccontano quello che sta succedendo, slash succederà come trend, ad esempio, sui Stati Uniti. Sì, sai, io ho avuto la fortuna di trovarmi un parte al posto giusto, al momento giusto, perché poi mi occupavo di Stati Uniti, già da quando ho cominciato a fare questo mestiere, dal 2008, naturalmente con grande ingenuità e con grandi ignoranze, poi qualcuna in meno più avanti, anche nel 2012, però poi è capitato che quando è arrivato Donald Trump, per dirla proprio così com'è andata, e improvvisamente negli Stati Uniti, nella politica americana, sono cominciate ad accadere delle cose molto strane, poi con delle spiegazioni, però che hanno fatto sì che tante persone che di solito non seguivano la politica americana cominciassero a chiedersi, ma che sta succedendo lì, perché? Io mi trovassi nella posizione di quello che già da tempo scrive di Stati Uniti, sapendo che le persone si interessavano al mio lavoro per un mese ogni quattro anni, il mese delle elezioni, e basta. A quel punto quell'interesse mi ha permesso di trovare un pubblico più numeroso, e mi ha imposto di fare delle altre cose, di farne meglio, di farne di diverse, e quello è stato un colpo di fortuna. Poi certo, io avevo creato delle condizioni in modo inconsapevole, perché quel colpo di fortuna lo potessi trovare, però non bisogna mai dimenticare che quella serve, serve parecchio. Tema di cui abbiamo parlato tantissime volte, non voglio asciugare nessuno, sono ovviamente d'accordo, però se la palla rimbalza bene, poi bisogna esserla... Certo, certo. Se no perdi 2-1 con la Cremonese. Aia! Ma non era riferito alla SRO, ma questo. Silvia, ti proporrei lo scambio vino-microfono, ma non è Covid-compliant, quindi... Peccato, veramente. Grazie. Eccoci qua. Allora, io ho scoperto stamattina che doveva succedere questa cosa. Non lo sa... dove è Ale? Ecco. Più vicino. Mi è capitato di rifare, non dirò dove e con chi presentazioni del libro, dove il moderatore o la moderatrice evidentemente non avevano letto il libro. Ok. Quindi vai tranquilla. No, io ho scoperto molto veloce. Ok. Quindi sono riuscita a leggere parecchio di questo libro oggi. Ma in realtà... Esatto, non vi spoilerò la fine, ma in realtà siccome io ti ascolto tutte le mattine, ti guardo sui social, ti leggo sugli arti, faccio tutto. Non lo dici come se fosse una cosa piacevole, però... In realtà so molto di questo libro. Quindi partirei, diciamo, da una... proprio dal tema della California. Cioè, la California rappresenta per noi un po' l'ideale. Lo è sempre stato. Io parto da quest'idea. Mio padre nel 68 fa l'anno all'estero. Lo mandano in California. Questa cosa è successa anche a me. 68. Nel 68 lo mandano in California. Si sarà divertito. Molto. Parte scout e torna buono, abbronzato, coi capelli lunghi e la chitarra sulla spalla. Il motivo per cui poi lo fa fare a me, a me mandano in Mississippi però. Quindi la situazione è andata molto... Si è tornata armata con gli stivali. 90 kg di più. È stato insomma molto diverso la situazione. però questa... Diciamo, la California per noi rappresenta un po' il sogno. Cioè, noi vorremmo essere la California. La California rappresenta anche l'ideale, in qualche modo, degli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti sono un po' la California nel nostro immaginario. Adesso è cambiata la situazione o è ancora così? Allora, intanto confermo quello che dici rispetto a che cosa rappresenta per noi la California. Che ci piaccia o no. Nel senso che poi la California è anche, diciamo, simbolo di tantissime altre cose. E ci sono sicuramente tante persone che vedono nella California... Cioè, che pensano, no, ma io non voglio essere come i californiani. Mi stanno sulle scatole. Mi sta sulle scatole quella estetica, quell'immagine, quella cultura. Però se partiamo, diciamo, dall'altra parte. Prendiamo la questione da un altro lato. E pensiamo a come vorremmo che cambiassero le nostre società. Spesso indichiamo delle cose che in California esistono. Nel vivere in una società più progressista e più accogliente. Dove ci sia più lavoro, ci sia un lavoro per chiunque lo cerchi. Che dove si sappiano sfruttare le bellezze del territorio che non mancano lì, come non mancano qui. Dove ci sia una facilità di ottenere investimenti, fiducia per un'idea che magari non ha nemmeno una monetizzabilità a breve termine. Però dove si investe sulla cultura e sull'esperienza di iniziativa. Le università migliori del mondo. Ci sono una serie di cose, industrie, prodotti che cambiano il pianeta e che non sono per forza soltanto, con tutto il rispetto, l'olio d'oliva o la poltrona o le scarpe. E tutte queste cose in California ci sono. E la California non è un caso se è l'unico Stato americano che ha il diritto ad avere il proprio sogno. C'è il sogno americano, c'è il California Dream delle canzoni. Il Mississippi Dream non esiste. Nemmeno nella cultura americana. Potremmo provare a farlo diventare un sogno. Sì, ce ne vuole per diventare quella cosa lì. E questo non era soltanto una cosa culturale, detto che poi lo era ovviamente, di marketing se volessimo dirlo in un modo un po' ignorante. Ma c'erano dietro dei pilastri, c'è Hollywood, la Silicon Valley, ma prima ancora i cercatori d'oro, prima ancora la Big Generation, il movimento hippie negli anni 60. C'era l'agricoltura, c'erano delle cose molto grosse, molto influenti. E tutte queste cose ci sono ancora. Questa è la cosa strana. Cambiate, diverse, alcune migliori, alcune peggiori, alcune nuove, però le persone se ne vanno perché la California è finita per diventare vittima del proprio successo. Questo successo ha attratto tantissime persone, la California non è stata completamente in grado di gestirli a partire dalla casa. E oggi, negli Stati Uniti soprattutto, dire California, evocare la California non è più simbolo di successo. Non è più cool. Cioè, la California è il simbolo delle cose che non vanno bene. Si fanno le battute negli show televisivi. Se guardate gli stand-up comedians su Netflix, quasi tutti i monologhi a un certo punto hanno la battuta sulla California. E sul fatto che se vivi in California sei abituato a trovare escrementi umani sui marciapiedi. Se viene un vicino a bustarti alla porta, prendi le armi perché sei sicuro che se qualcuno ti vuole rapinare. La settimana scorsa ci è uscito il video del tipo che ha preso a martellate in testa il marito di Nancy Pelosi in uno dei quartieri peraltro più ricchi della città, più protetti. La gente se ne va, si vede nei numeri e tutto questo mette in discussione moltissime cose che riguardano poi anche noi. Perché tanti di questi problemi non sono soltanto californiani. No, infatti, quando penso a come tu racconti la California, quindi questo divario economico, problemi ambientali, divario anche di genere, problemi di ricchezza. Quindi da una parte i miei garicchi, dall'altra chi invece non ha niente. Sono temi di cui noi su Will parliamo tutti i giorni, no? Quindi qual è la differenza? Ci sono delle differenze, a parte ovviamente il contesto geografico, ma ci sono delle differenze tra la California e qui, sui grandi temi? Allora, ci sono ovviamente, perché parliamo di due territori molto diversi. Per certi versi meno, nel senso che la California poi ha 40 milioni di abitanti. Per noi ha molto più senso, se vogliamo paragonarci con un posto in America, paragonarci con la California che con gli Stati Uniti, che sono più grandi della Cina e hanno tre fusi orari, un paese pieno di diversità. La California è un posto che è un'azione di normali dimensioni, però è la quinta economia del mondo, forse la quarta. Però vediamo che in alcune parti del nostro paese, per esempio, nelle parti che hanno sperimentato dei fenomeni più simili a quelli californiani, per esempio l'arrivo di tantissime persone in cerca, soprattutto di opportunità lavorative, alcuni di questi fenomeni tendono a ripresentarsi, a volte in modi diversi, ma l'esempio più facile e banale della cosa che starete pensando è il discorso sulla casa. Che se vi parlo del caro affitti, eccetera, voi non pensate mica che è un problema californiano, voi pensate alla nostra situazione attuale di questa città, ma vale per Bologna, vale per Roma, vale per Padova, dove ci sono gli studenti senza tetto, vale per certe zone anche di Bari, di Salerno, non è che bisogna pensare soltanto a un tema del nord Italia. Poi le soluzioni sono diverse, le cause di questi problemi sono in parte diverse, però le conseguenze del cambiamento climatico rispetto ai settori economici, che già oggi sono in enorme difficoltà, non è che sono una cosa californiana, sono una cosa che riguarda anche noi. Nel modo in cui la California ha avuto una grandissima crescita economica, e questo non le ha permesso di migliorare le condizioni di vita delle persone, secondo me, ed è quello che cerco di raccontare nel libro, non c'è la conclusione che la crescita economica non serva, ossia è rilevante, io non sono uno di quelli che crede nella decrescita come soluzione alle cose, ma c'è che quella di per sé da sola non basta se non hai un'idea politica di come utilizzare quel successo. Una cosa che mi ha divertito molto nel libro, ma anche in tutto quello che ho letto su questo libro, è come i californiani vengono trattati negli altri paesi, cioè c'è un po' questo razzismo nei confronti dei californiani, perché sono un po', capito, quell'amico perfettino che viene a cena e ti dice «Ah sì, bellissimo questa cosa, però i miei piatti sono più carini, ah ma li ho comprati in questo posto, ma ne voglio…» Cioè, esatto, no? Sono quella roba lì. Come vengono trattati dalle persone degli altri stati? Allora, mi verrebbe da dire che in parte, diciamo, noi che viviamo in questa città possiamo immedesimarci, un po' come quando dici a dei tuoi amici e delle tue amiche che non vivono a Milano, non sono a Milano, di Starbucks, no? Di queste robe che abbiamo in città e che per cui siamo forse un po' troppo entusiasti a volte, diciamo, no? I poke, queste robe qui. No, però… Entusiasti forse è un parolone. Sì, no, però giudicare dal numero di posti che fanno il poke in giro, siamo i più grandi fan al mondo di questa… Anche gli hawaiani tra poco ci dicono, sentite, anche meno, cioè, ragazzi, appropriazione culturale come minimo, no? Il piatto tifico milanese, il poke. No, ma al di là delle battute, è davvero un tema di cultura popolare, cioè non è più una roba che sta nei convegni o nei libri, se ne parla se ne ride in tv, ci sono un sacco di… Ma sui social ci sono un sacco di video di gag, in cui la gag è il californiano che fa delle cose da californiano, ci sono delle storie vere di la famiglia che parte per un viaggio on the road in America, noleggia la macchina in California e quando arriva degli altri stati appiccicano sopra la targa un biglietto con scritto It's a rental, l'abbiamo affittata, non siamo californiani, perché sennò rischi che la mattina dopo la trovi con degli insulti sopra, vattene, c'è il prete dell'Aidaho famoso perché sulla sua scrivania c'è una targa con scritto Non sono nato qui ma ho fatto il prima possibile. Il candidato sindaco a Boise, Idaho, che ha proposto di fare un muro al confine per tenere lontani i californiani, ma ce ne sono tantissime di cose così ed è vero ormai parte della cultura americana in un modo che danneggia la California più di tante altre cose che magari sono riparabili in senso industriale, di come sono fatte le città. Il danno di immagine a un paese che ha costruito poi un pezzo del suo successo su questa propria immagine, la luce di Los Angeles e poi è uno dei posti più inquinati d'America. La magia romantica è anche un po' alternativa di San Francisco dove c'è una sinistra molto forte, anche molto underground, molto non convenzionale e poi un posto in cui devi scavalcare la gente sul marciapiede. Questa immagine ne risente parecchio. Chiaro. Secondo te il fatto che, cioè una cosa che secondo me è interessante di quello che i californiani stanno vivendo a livello diciamo di cambiamento, di eventi climatici estremi, no? Quanto la ricchezza fa la differenza in un paese come la California? Eh beh, lo fa parecchio. C'è una storia in questo abbastanza esemplare. Una delle cose che sono successe in California a causa del costo delle case, questo costo esagerato, è che le persone si sono spostate ovviamente sempre più lontano dalle città. E la California come larga parte dell'Ovest degli Stateniti è un posto di natura meravigliosa. La natura che c'è nell'Ovest degli Stateniti ha delle zone incontaminate come poche parti del mondo, foreste sconfinate. Ci sono i parchi, le aree protette, ma non sono un pezzo grande rispetto alla quantità di boschi che però tu puoi comprare e di cui puoi fare quello che vuoi. E quindi le persone si sono spostate e hanno costruito di fatto delle città a volte anche in mezzo alle foreste. E lo hanno fatto per ragioni economiche. Una di queste città che si chiamava non a caso Paradise perché immagina che posto costruita veramente in mezzo alla foresta è finita coinvolta in uno dei grossi incendi che la California ha sempre avuto ma che non sono mai stati gravi come in questi anni. Se guardate su Wikipedia la lista degli incendi più devastanti in California è di sempre, da top 20, tipo 12, sono degli ultimi 10 anni. E la città è stata completamente distrutta. Cioè Paradise non esiste più. Se cercate la pagina su Wikipedia di Paradise hai verbi al passato. Era una città, ma era un posto da tipo 80.000 abitanti. E le persone erano andate lì e la città esisteva perché le persone dovevano trovare un posto in cui vivere e non ce n'erano dei posti in cui vivere. Chiaramente chi era ricco non ha avuto di questi problemi. Ma poi alla fine le conseguenze del cambiamento climatico in un certo senso sono più democratiche rispetto a quanto abbiano, possono essere altri problemi perché quello che succede è che quindi per evitare questi incendi che il cambiamento climatico rende più frequenti, più difficili da spegnere, piove di meno, le piante sono secche, per esempio staccano la luce elettrica non appena si alza un po' il vento nella zona di San Francisco perché i tralicci passano in mezzo alle foreste a causa di queste città, si alza il vento, spengono la luce perché se il traliccio cade prendono fuoco gli alberi. E quindi tu puoi avere tutti i soldi che vuoi a San Francisco però in estate ti tolgono la luce due ore al giorno. Comincia a diventare, per quanto puoi essere lì così, ti organizzi, però anche lì una bella rottura di scatole come minimo. Ma questo vale per le conseguenze della siccità nella Central Valley rispetto al lavoro dei braccianti o al lavoro dei braccianti che non c'è. Vale per un sacco di questioni diverse. Vale per come i nostri consumi influenzano le produzioni agricole. I nostri consumi, specialmente in California, sono dettati da degli stili di vita in cui poi le diseguaglianze economiche contano. Il consumo di certi alimenti è più forte in certi posti. Non voglio tornare diciamo al pochè, ma l'avocado, il salmone, consumi che sono esplosi nel mondo occidentale, soprattutto in un certo tipo di ceto sociale, hanno delle conseguenze ambientali devastanti per il tipo di acqua, per la quantità di acqua di cui hanno bisogno. C'è un altro Stato che potrebbe diventare la nuova California? Cioè il nuovo dream degli Stati Uniti? Ce ne sono due in questo momento, che sono anche quelli che si prendono la fetta più grande di californiani in uscita e così facendo però hanno un'economia che cresce così tanto che pettilano persone da qualsiasi altra parte degli Stati Uniti, che sono la Florida e il Texas. Sono anche sul piano demografico. La Florida è vicino al Mississippi, tra l'altro. Sì, infatti, non male. Stanno crescendo moltissimo in termini demografici, sono gli Stati che hanno la popolazione che aumenta di più, in termini economici, veramente oltre ogni media, ogni parametro anche storico. Stanno cambiando parecchio anche in termini di composizione etnica, perché poi arrivano le persone da fuori e quindi stravolgono anche l'impianto poi demografico di una certa zona. Sul piano economico, Miami per esempio è una città che proprio sul campo delle start-up tecnologiche fino a qualche anno fa non aveva un contesto così fertile, oggi è tutto cambiato. In Texas ci sono le vinerie, tante vinerie, in Texas c'è una roba abbastanza strana. E quindi stanno cambiando tantissimo, stanno cambiando molto anche in senso politico. La Florida, che è sempre stato uno stato imbilico, oggi è uno stato molto più conservatore. Il Texas, che è sempre stato uno stato molto conservatore, oggi ha tutte le città governate dal Partito Democratico e diventa sempre meno conservatore. Tutto questo sta cambiando molto, una gran parte degli Stati Uniti. Io ho raccontato, in questo libro si intitola California, ma racconto una roba che sta cambiando, secondo me, il paese in profondità. Il sud del paese sta crescendo in generale molto. L'Arizona, la Georgia, il New Mexico, il Colorado. E il nord, che era la zona delle industrie, delle fabbriche, dell'auto, delle miniere, del manifatturiero, è al palo ormai da 20-30 anni. Lì è dove c'era la classe operaia, quella lì, diciamo, di Springsteen. E oggi questi votano Trump. Sotto erano tutti ultraconservatori, ora votano per i democratici. Sta cambiando tutto. Questa è la cosa che da noi, invece, ancora non si vede molto. Cioè, qual è il Texas di Milano? La Florida di Milano? Milano ne avrebbe molto bisogno, peraltro, di questo tipo di concorrenza. al momento ancora non c'è. Non c'è ancora. Quanto, secondo te, di questo è cambiato anche a causa dell'immigrazione? Cioè, te lo chiedo perché effettivamente hai citato noi, paesi della fascia del sud, e lì è dove arrivano tutte le vie migratorie più semplici. I cubani vanno in Florida, sono tutti a Miami, dal Messico vanno tutti in Texas. Cioè, come funziona? Ha cambiato parecchio. Ha cambiato parecchio, intanto perché appunto c'è questo confine, che è un confine poroso, soprattutto in modo irregolare, perché mancano i modi legali per arrivare negli Stati Uniti, ma è un confine talmente grande, talmente poi, non è un posto in cui ti puoi fare un muro, cioè c'è il Rio Grande, è un posto, il Rio Grande in certe parti si può guadare a piedi e l'acqua d'arriva alle ginocchia, è impossibile controllare quel confine lì. E poi gli Stati Uniti hanno costruito la loro identità sull'immigrazione, cioè a parte i nativi americani sono tutte persone che sono figli di immigrati, eredi di immigrati, e anche soltanto con i ricongiungimenti, che sono delle pratiche burocraticamente complesse, però in un paese di 330 milioni di abitanti numerosi, arrivano un sacco di persone, il meccanismo della green card esiste ancora, e quindi poi l'immigrazione cambia parecchio, cambia anche perché ha degli effetti a cascata, che non sono soltanto quelli dei flussi di chi arriva, ma poi certi gruppi demografici oggi crescono più di altri, fanno più figli, perché sono anche quelli le cui condizioni economiche stanno migliorando più rapidamente, stanno entrando nella classe media, fanno un figlio in più, e tutto questo ha delle profonde conseguenze che esistono delle correlazioni dirette rispetto alla crescita economica, oggi i posti d'America che crescono di più sono i posti più diversi sul piano etnico, sono i posti più giovani, sono le grandi città e medie città di tutto il paese, e soprattutto della zona meridionale, e quindi da una parte questo ci dice che questo tipo di diversità demografica può far funzionare la società molto meglio, dall'altra ti spiega perché che quelli delle zone molto bianche, del nord soprattutto, pensano che questo tipo di modello sociale sia avvenuto, stia avendo successo al loro detrimento, qualcuno ci sta rubando qualcosa. Sounds like... Eh, non sono cose che così lontane. Esatto. Un'ultima domanda, e poi passo alle domande del pubblico che sono certo che ce ne saranno, nel caso ho altre domande perché andrei avanti forever. Secondo te che cosa possiamo imparare dalla storia della California, noi qua? Cioè come Europa, come Italia? Allora, una cosa sicuramente quella che vi accennavo prima, è cioè che è fondamentale avere i soldi per fare le cose, non è sufficiente avere i soldi per fare delle cose intelligenti, e se noi non abbiamo la montagna di soldi che ha la California, che in tutto questo non ha il debito pubblico, hanno il surplus di bilancio, in questo momento abbiamo un problema simile, abbiamo un sacco di soldi, soldi del PNRR, che stiamo scoprendo che spenderli è molto complicato, perché noi comuni non hanno il personale, non sappiamo fare i bandi, perché per usare quell'espressione orripilante mettere a terra i progetti è complicatissimo, e non solo, a volte vai per risolvere un problema e ne crei altri due, spendere i soldi in un modo intelligente a volte vuol dire spalmarli in modo uguale su tutto il paese, altre volte fare parti uguali tra cose diseguali, tra fenomeni diseguali, è sbagliato, e quindi devi decidere che investi in un certo segmento della popolazione o in un certo territorio, insomma avere un'idea politica di cosa fare con i soldi, di cosa fare con la ricchezza che hai, quello è sicuramente una grossa lezione e che noi ne possiamo trarre secondo me, l'altra lezione è che, e questo di nuovo riguarda molto anche noi e noi le persone che stiamo in questa città, è che serve un coinvolgimento più attivo delle persone, soprattutto delle persone che vivono come meno urgenti questi problemi, per far sì che questi problemi possano effettivamente essere risolti, e quando parlo di coinvolgimento più attivo non parlo delle cose che avvengono con un minimo sforzo, e cioè del, perché vanno benissimo, postare, firmare le petizioni, fare divulgazione, non è che sia sbagliato, funziona, va bene, non può bastare quella cosa lì, anche perché sennò diventa veramente una cosa esclusivamente performativa. La sinistra californiana è una sinistra che ha i valori più ortodossi, più puri, più intransigenti, e anche più d'avanguardia, per certi versi, della sinistra, di tutta la sinistra americana, e vive in un posto con le diseguaglianze più gravi del mondo, perché c'è in parte un certo distacco delle persone poi dall'attività politica concreta che si fa con la militanza, si fa con il voto, si fa con i comportamenti, e non si fa soltanto con le posizioni intellettuali, e anche quella secondo me è una lezione che per noi può essere utile trarre. Avrei un'altra domanda su questa, ma voglio passare prima il microfono a chi ha delle domande. Yes, vai, non so, faccio, vado. Ciao. Ciao. Io ho una domanda che si lega a quella del mio collega. Io sono andata negli Stati Uniti, ero molto piccolina, avevo 14 anni, sono andata da dei parenti, ovviamente sono figlia, quindi genitori che hanno, insomma, tutti sparsi nell'area del Queens, a New York, e ho conosciuto le mie cugine di secondo o terzo grado, le amiche delle mie cugine. Che figo, bello. Una figata incredibile. Sì, scusatemi, però penso che mi sentiate. Io mi ricordo questo viaggio proprio con gli occhi sempre da fuori, mi hanno portato a vedere la loro scuola, ho pensato, oddio, c'avete gli armadietti, fate sport a scuola, robe pazze. E io mi ricordo che la settimana prima di partire parlai con queste ragazze e disse, ragazze, voi non vi rendete conto, cioè per noi questa roba è incredibile, cioè io mi sogno una cosa del genere e loro mi hanno detto no, non hai capito, siamo noi che ci sogniamo di essere in Europa, siamo noi che sogniamo il fatto di poter stare con due ore a Parigi, siamo noi che ci sogniamo la pasta con le polpette, siamo noi che ci sogniamo, non so, il mare, la costa azzurra e tutte queste cose qua. Esiste ancora negli Stati Uniti, io non ci torno da tanto e non ho più i contatti che avevo prima, questa idea al contrario, cioè che l'Europa invece è ancora più bella rispetto agli Stati Uniti, che sia più sana, che sia più felice. Allora, che sia più sana, più felice non lo so, sicuramente che sia più bella sì e che questo sentimento in generale sia rimasto assolutamente sì, loro a volte hanno la sensazione che vivono all'Europa un po' come una specie di enorme parco di divertimenti a tema 900, proprio un'ambientazione perfetta, cioè ti senti proprio effettivamente lì però lo dico però con grande ammirazione al di là del tema 900 un americano di Cleveland che è uno dei posti più brutti che abbiamo mai visto prima di arrivare leggevo sulla stampa locale che avevano inaugurato questa nuova piazza e tutti erano felici questa piazza bellissima nuova cioè è una piazza che in qualsiasi città italiana sarebbe la piazza più brutta della città l'ecomostro il posto da demolire chi ha fatto questo è un incrocio terrificante un americano di Cleveland va in certi posti d'Italia i famosi borghi medievali che noi ci permettiamo di ridere perché quanti borghi ci sono in età e sono sbalorditi e pensano che sia finto e toccano per vedere se è carta pesta cioè non ci credono e lo stesso vale per il cibo lo stesso vale per la cultura sono posti in cui a Philadelphia c'è una chiesa vecchissima che è una chiesa dell'Ottocento noi se vi in una casa degli anni 60 ti dicono che è nuovissima e a Roma ci sono delle cose che sono letteralmente di tipo 3.000 anni fa e tu le vedi e 3.000 anni fa lì non c'era nulla o quasi nulla o quello che c'era l'hanno distrutto quindi ci vivono ancora come un posto magico cioè una serie come Emily in Paris si regge su quella roba lì sull'americana che va in Europa e c'è questo mondo incredibile in cui lei si muove e fa delle cose tutto sommato normali c'è lavora c'è dei fidanzati però è a Parigi e questo fa sì che gli americani impazziscono devo dire appunto un tipo di ammirazione per l'organizzazione europea per il business europeo per il modo di vivere qui su un piano non turistico non c'è molto io comincio a vedere però una certa invidia di alcuni nostri servizi pubblici dal servizio sanitario nazionale gli americani insomma sempre di più non è una cosa maggioritaria ma si accorgono che qui facciamo le cose in un modo che ha senso il trasporto i treni cioè ogni tanto gli americani vedono la rete dei treni ad alta velocità europea che è una roba in cui ci sono migliaia di linee e la confronti alla rete ad alta velocità americana che sono tipo cinque ferrovie in un paese gigantesco e si sentono ad aver proprio sbagliato di grosso qualcosa sì in effetti avrei citato anche io Emily in Paris però poi mi sono trattenuto e ho detto no dai che cita è sto zitta invece qualcun altro? io una vai io avevo posso io avevo una domanda su l'utilità cioè quanto sono importanti libri come questo per riuscire a capire che cosa importiamo cioè importiamo tutto un dibattito anche di polarizzazione social eccetera eccetera che secondo me rischiamo di prendere per quello che è dall'altra parte del mondo lo portiamo di qua e mal si applica allora quanto riusciamo a capire effettivamente quello che che importiamo oppure perché come dire le due domande erano particolarmente intelligenti però non so quanto magari rappresentative di una media della nostra comprensione degli Stati Uniti quindi prendiamo da là portiamo di qua un dibattito e rischiamo di importare le stesse contraddizioni cioè qual è la tua visione su questo? allora in parte siamo condannati che ci piaccia o no assupire una certa influenza sproporzionata poi sicuramente della cultura statunitense ma anche delle dinamiche di mercato statunitense ci sono dei fenomeni dei prodotti che tu vedi intraprendere una certa strada negli Stati Uniti e non bisogna essere degli indovini per vedere che poi tra qualche anno arriveranno qui quasi tutto sì nel nostro settore peraltro tantissime dalle newsletter ai podcast a tantissimi altri linguaggi poi di cui noi raccontiamo parliamo sono cose che sono già avvenute là poi noi naturalmente le modifichiamo le interpretiamo le cambiamo le discutiamo però questo vale per tantissimi altri altri settori ed è così anche se non ci piace questa cosa c'è una larga parte del pensiero per esempio oggi che contesta con più forza il capitalismo senza diciamo essere novecentesco ma con argomenti nuovi una larga parte degli studi di genere che mettono in discussione un sacco di pilastri culturali della nostra società vengono dalle università americane cioè sono discorsi che noi facciamo e la sinistra anticapitalista la sinistra diciamo che se volessimo usare una semplificazione diremmo anti-americana fa dalle nostre parti usando un sacco di espressioni in inglese perché queste espressioni le hanno inventate lì gli americani e anche i più grandi teorici della critica al modello americano spesso sono americani e quindi diciamo in parte ci dobbiamo rassegnare al fatto che questa influenza c'è ed è un'influenza che passa proprio dal soft power dall'università dalla cultura dai film dai libri dalle serie tv dall'invenzione di prodotti che ci cambiano prima ci davi social media li hanno inventati diciamo nel funzionamento che hanno adesso non solo in California in un posto anche piuttosto piccolo della California persone che quindi condividevano con tutte le loro differenze una cultura ma che non erano rappresentativi del mondo e hanno pensato a questi prodotti sulla base di una cosa che pensavano potesse funzionare e che però abbiamo spalmato poi su tutto il pianeta e questa roba qui in certi luoghi ha creato dei lavori che prima non esistevano in certi altri è distrutto dei posti di lavoro in Birmania c'è stato un genocidio cioè per il ruolo della viralità dell'innescato dei social media la politica è stata travolta anche in Europa da questi meccanismi di comunicazione di polarizzazione di radicalizzazione e quindi in parte dobbiamo rassegnarci a questa cosa in parte dobbiamo imparare a riconoscerla che non è sempre semplice però riconoscerla non voglio dire una banalità ma il primo passo che poi ci permette di eventualmente mettere in discussione certe letture certe idee che arrivano dagli Stati Uniti e che sì noi rischiamo di importare da queste parti in questo capire ricostruire i meccanismi di causa ed effetto che è una cosa che cerco di fare nel libro ha spero una potenziale utilità per esempio rispetto al discorso che faccio nel libro sulla scuola su come la scuola sia diventato un grande campo di battaglia politico su come si litighi molto oggi in America dei corsi sulla diversità e l'inclusione che si fanno nelle scuole il fatto che tutto questo abbia origine in America tra la pandemia e i lockdown e le politiche dei lockdown sulla scuola e l'omicidio di George Floyd che abbia avuto delle cause precise riconoscere quel tipo di meccanismo ci può aiutare a poi vedere certi pezzi che escono sulla stampa italiana sulla verità che riprendono quei temi lì e capire in che modo certe cose effettivamente non sono trasportabili sono diverse però è uno sforzo intellettuale complicato complicato anche per me che faccio questo tutto il giorno molto complicato un sacco di volte mi pongo delle domande e la risposta che mi do è non lo so infatti welcome to my world ciao grazie innanzitutto ciao avevo questa curiosità secondo te diciamo questo processo di lenta decentralizzazione del mondo dalla California di cui parli che noi abbiamo vissuto e conosciuto e importato come diceva anche Alessandro l'abbiamo sempre considerato come un mondo che sta quei 10 15 20 anni avanti e lo abbiamo per certi versi seguito tant'è che poi noi ci arriviamo ad essere dove stanno loro guardando quello che sta succedendo quello che è successo secondo te deve essere un monito che ci deve dire che quel tipo di mondo lì è insostenibile o piuttosto che è stato male addomesticato passami il termine e che quindi la direzione è corretta però dobbiamo cercare di applicare magari dei principi diversi per gestirla meglio allora non so se ho una risposta a questa domanda perché è una domanda complicata diciamo sopra il mio pay grade cioè non so se ne so abbastanza di tutte queste cose però non ti preoccupare c'è Alessandro se vuole Alessandro per aggiungere qualcosa appunto gli scede il microfono volentieri però mi sembra che questa sia la domanda nel senso che è una domanda che dobbiamo farci noi a prescindere da quello che fanno gli americani in un'idea diciamo americana di sguardo verso la società e di sguardo verso il mondo quello che sta accadendo in California può essere anche considerato e alcune persone lo considerano così sto presentando questa idea senza approvarla vi sto raccontando di un modo di guardare a questa cosa che c'è in America come un normale e fisiologico processo di cambiamento i processi di cambiamento non sono mai indolori cioè per ogni cosa che risolvi ne devi risolvere altre due ci saranno sempre dei vincitori degli sconfitti dovrai occuparti degli sconfitti ma non sarà una cosa istantanea quindi quelle persone staranno male qualcuno se ne accorgerà qualcuno lo denuncerà farà delle campagne interverrà la politica però le nostre società progrediscono così non vanno dritte vanno a zig zag fanno un passo avanti due indietro e quindi loro possono dirti la California diventerà troppo costosa infatti la gente se ne va e questo farà sì che la California sarà nel tempo meno surriscaldata ci sarà una decentralizzazione delle opportunità economiche i posti che però vedranno questo afflusso di persone avranno sia una grande crescita che anche loro un aumento del costo della vita una sorta di gentrificazione un cambiamento culturale che passerà dai conflitti e tutto questo è il modo in cui avviene lo sviluppo e non puoi avere una crescita economica forte come quella americana un'influenza una centralità come quella americana le università che ogni anno sfornano i migliori premi Nobel al mondo la maggiore potenza tecnologica culturale militare eccetera se non sei disposto a guidarla forte questa macchina sapendo che ogni tanto qualcuno si farà male ora io credo che questo tipo di questo modo di guardare la società sia molto lontano dalla nostra cultura noi abbiamo una cultura che tiene molto più in considerazione con tutti i limiti del caso l'idea che bisogna cercare di avanzare magari più lentamente ma un po' tutti insieme veniamo da giorni qualche giorno fa di dibattito su è il caso o no di aumentare gli stipendi e gli insegnanti che vivono nelle città più care d'Italia e la reazione a me sembra abbastanza unanime diciamo della destra e della sinistra è stata no se si aumentano si aumentano a tutti noi abbiamo la contrattazione collettiva di nuovo non voglio dire questo è il modo giusto sarebbe un altro dibattito da fare però mi sembra che la nostra cultura vada proprio in un'altra direzione e allora secondo me quella è la domanda che dobbiamo farci vogliamo effettivamente diciamo continuare a seguire l'America oppure no e la risposta mi sembra che ce la devo un po' implicitamente nel modo in cui cerchiamo ad affrontare i nostri problemi da noi che è tutto un po' meno estremo sia evidentemente le ricchezze i successi le possibilità le opportunità su questo non ci piove sia però la sanzione contro chi non ce la fa noi non abbiamo tutta quella gente per strada non è una cosa da poco quella è una crisi umanitaria gigantesca da noi non c'è il modo in cui funziona la nostra sanità per quanto imperfetto sia io non lo cambierei con quello americano eccetera anyone else? vai stanno arrivando non so più va bene ho avvicinati tu no ciao ti è toccato fare ginnastica no visto che hai parlato del tema della scuola nel tuo libro c'era questo la differenza tra i due sistemi europeo e americano cioè il sistema europeo che è basato a tutte le stesse condizioni il sistema americano che invece è basato a ciascuno secondo le sue capacità cioè le classi differenziate a seconda del livello del talento sì dei risultati volevo capire cosa cioè cosa ne pensi su questi due approcci perché diciamo nel libro li hai li hai delineati però non ho cioè non hai espresso una posizione a riguardo volevo dire con la tua esperienza cosa cosa ne pensi su quale secondo te ti sembra quello quello migliore allora sul piano sai alla fine cerco sempre anche anche perché appunto ho sempre molta paura di dire delle stupidaggini di guardare poi i risultati i dati gli studi scientifici ci sono delle persone che studiano queste cose per mestiere e ci sono stati fatti molti studi sulle conseguenze di entrambi i sistemi quello americano che appunto differenzia gli studenti per i risultati per i voti e quindi non c'è solo la classe di matematica ma c'è la matematica college prep quella avanzata quella media quella basic e il nostro che invece si chiama tracking questo sistema peraltro in vigore anche in tanti paesi europei oppure un sistema come il nostro che tiene tutte le persone insieme e non le divide per preparazione al netto delle bocciature che peraltro come sappiamo sono anche un fenomeno sempre meno frequente di nuovo ho l'impressione che ed è questo che mi fa propendere per il nostro sistema che nella nostra cultura e quindi anche nella mia la scuola non sia soltanto un luogo di formazione delle persone rispetto alla loro preparazione alle cose che sanno che conoscono alla loro cultura al di là della sua spendibilità sul mercato del lavoro però alle cose che impari ma sia anche un grande posto di costruzione della società per cui la scuola ti costringe a passare del tempo a conoscere delle persone di ceti molto diverse dal tuo di esperienze provenienze molto diverse dalla tua che condividere la classe come gruppo di comunità di vita cosa che in America non c'è perché vai alla classe di matematica vai alla classe di italiano e ci si sparpaglia abbastanza noi abbiamo quelle 25 persone e insomma poi si fanno tutte le scelte del caso ci sono tutte le cessioni del caso ma nella regola ci stai per 5 anni e altri 5 alle scuole elementari e nella condivisione di quella comunità si imparano un sacco di cose sociali culturali dello stare insieme dell'essere parte di un paese di una città che ha molte persone diverse da me che scopri davvero quando sei ragazzino e vai a scuola e cominci a vedere delle persone che fanno cose diverse ti raccontano di famiglie diverse dalla tua e tutto questo in un contesto come quello americano che tende ad essere molto classista non c'è negli Stati Uniti le scuole sono finanziate a livello locale non è che le paga il governo come da noi e sono finanziate dalle tasse sulla proprietà immobiliare questo vuol dire che i quartieri molto ricchi hanno le scuole migliori i quartieri molto poveri hanno le scuole peggiori perché dipende dal valore delle case e quindi le scuole americane non hanno quella funzione sociale che secondo me hanno le scuole italiane poi le scuole italiane devono essere migliorate da cento lati diversi sono delle scuole purtroppo molto scadenti noi ci raccontiamo la storia delle scuole elementari migliori del mondo e non è vero non è vero da un sacco di tempo però il modello ugualitario nostro mi convince di più io ho una domanda sui senza tetto perché prima appunto avevi citato che in California ci fossero un sacco di senza tetto ed era una cosa che io stessa avevo notato quando andai a San Francisco avevo notato proprio una quantità pazzesca di senza tetto ammassati nelle strade e poi avevo chiesto mi ero informata e mi avevano detto che proprio il governo californiano devolve dei fondi per sostenere diciamo così senza tetto perché poi un aspetto che mi aveva incuriosito è che avevo notato alcuni di loro a parte in particolare però con iPhone con Macbook cioè nel senso e questa cosa mi aveva veramente incuriosito quindi quali sono le politiche del governo californiano per gestire la questione della quantità dei senza tetto in California allora intanto le persone senza tetto sono molto diverse tra loro cioè non sono un gruppo facile da mettere in un unico cassetto ci sono persone senza tetto che diventano senza tetto a 60 anni 70 anni dopo aver vissuto delle vite diciamo normali con tutte le virgolette del caso ci sono delle persone che non hanno una casa ma vanno a lavorare e quindi magari sì che hanno il Macbook e l'iPhone però hanno scoperto che il loro affitto è diventato di 1000 dollari più alto dall'oggi al domani nel frattempo sono stati licenziati da Twitter dico una cosa a caso per qualche motivo non riescono subito a trovare lavoro magari hanno un problema di salute fisico mentale magari hanno una situazione complicata a casa finisci per strada facilmente cioè in America ogni tanto capita girando in macchina potrebbe capitarvi di vedere dei marciapiedi soprattutto nelle zone residenziali con le case sui marciapiedi c'erano il divano i mobili tutti fuori in quel caso lì spesso è uno sfratto quando si sfrattano cose che in Italia comporta che tu non finisci per strada dall'oggi al domani a volte anche in modo diciamo che i proprietari delle case sono complicati da gestire lì arriva la polizia porta via le cose se ti opponi il padrone di casa ti fa causa e tu hai puoi dimenticarti ogni possibilità di avere un contratto d'affitto in futuro e quindi a volte è così una cosa immediata che tu vedi uscire le persone dalle tende sotto certi fonti di San Francisco di Los Angeles e non sono vestite come ne pensiamo stereotipicamente le persone senza tetto vadano vestite in giro sono vestite come la gente che va a lavorare di solito quella condizione non dura molto perché poi quando vivi per strada ti cominciano a succedere delle cose per cui non è che è una vita semplice che poi va a lavorare per tre anni in quella condizione lì è vero che il governo della California spende un sacco di soldi non è questa una crisi che è causata dal fatto che non stanziano abbastanza soldi anzi a volte quello diventa un alibi io facendo ricerca per questo libro parlavo con un sacco di persone coinvolte a vario titolo nell'assistenza dei senza tetto e mi dicevano sì è vero è un problema terribile però adesso con l'ultimo budget abbiamo stanziato 4 miliardi in più e vedrai che adesso è questa roba io la sento dire da anni a me o la leggo diventa un alibi stiamo facendo questo e diventa anche un alibi per le persone pensare che qualcun altro debba fare qualcosa i movimenti per la casa in California non sono contrari a creare i rifugi notturni i ricoveri notturni New York è piena pochissime persone senza tetto a New York passano la notte all'aperto in California quasi tutte i movimenti per la casa dicono le persone senza tetto non hanno bisogno di ricoveri ma hanno bisogno di case che è vero però non costruiscono i ricoveri non costruiscono nemmeno le case non le costruiscono perché le potrebbe pagare milioni quindi fluiremoci per le persone senza tetto e tutti vanno a letto pensando che la colpa sia di qualcun altro e spendiamo un sacco di soldi a Los Angeles volevano costruire delle case per i senza tetto hanno fatto un referendum tutta la popolazione in gran maggioranza non tutta favorevole al momento di fare i cantieri ovviamente vari comitati per la casa che cominciano a dire ebbè ma noi non pensavamo mica che le volevate fare proprio qui le case per i senza tetto ne hanno fatte molte di meno sono costate un sacco di soldi per superare le cause legali come se avessero fatto degli appartamenti di lusso invece erano case popolari e quindi spendere tutti questi soldi non ti garantisce affatto di risolvere il problema ma davvero per molti californiani diventa un alibi un modo per dire io ho fatto la cosa giusta la colpa è di qualcun altro e la varietà di persone che vedi per strada di origini di persone che vedi per strada rende così facile identificarsi in loro cosa che nelle nostre città è più complicato che non solo diciamo lo rende ancora più tragico per chi vive da quelle parti ma ci ricorda quanto poi le regole di una società possono avere un impatto su di noi e quindi il dibattito sulle regole sulle leggi la politica torna su quel tema un impatto tale sulle nostre vite che non ci possiamo permettere di disinteressarcene nemmeno dalle nostre parti allora secondo me ci sono tante altre domande ma secondo me sono tramorti anche secondo me qua ci sono 97 gradi è vero peggio che la California d'estate quindi vai 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 sarò breve tra una persona che ha studiato gli statunitivi così in maniera così approfondita dal 2008 e quindi con una conoscenza profonda di quella terra l'idea di un libro invece sulla California che è lo stato magari più mainstream nell'immaginario collettivo non so io all'università ho studiato stati con l'America mi parlavano di On The Road di Gerwack mi volevano far affascinare gli stati l'entroterra che non si calcolava nessuno quindi una persona che la conosce così tanto da dove viene l'ispirazione per concentrarsi di uno stato invece più alla portata dell'immaginario allora in parte perché se lo facevo sull'Oklahoma non ve lo compravate secondo me no a parte gli scherzi non è vero no può dare poi dovrebbe essere una sfida io continuo a dire Mississippi no faccio sul Mississippi no è che per me la cosa affascinante era l'equivoco cioè era la distanza tra la California a cui noi pensiamo che pensiamo di conoscere e quello che oggi è la California e come questo equivoco contenesse delle storie interessanti anche per noi per la nostra vita quello è stato diciamo l'innesco e quindi la scommessa che potessi raccontare una California diversa rispetto a quelle che appunto ci sono state raccontate per un sacco di tempo ed era una scommessa che pensavo che potesse funzionare non perché io ero convinto delle mie capacità ma perché questa roba qui sta succedendo lo so che non me la sto inventando io posso sull'esito del mio tentativo di raccontarla poi ognuno si fa la sua idea ovviamente ma sul fatto che questa sia la cosa più grossa che stia accadendo in America io non ho nessun dubbio poi posso averla raccontata bene o male ma su quello non ho nessun dubbio grazie grazie mille grazie ancora Alessandro Silvia Will grazie a tutti e tutte grazie a tutti Grazie a tutti.